I piedi, la parte più bassa del corpo, due piedi per procedere in avanti, male si cammina con un solo piede. Per procedere ogni giorno, fare passi nuovi, possiamo camminare bene e verso il bene, vera metafora della nostra vita. Dunque, oggi, Signore, mi fermo anch'io, ai piedi, ai tuoi piedi. Oggi ti chiedo perdono per le cose fatte con i piedi, per i progetti grandiosi, per i tentativi di farmi grande, invece di servire e lavare i piedi sporchi i peccati degli altri. Lava i miei piedi sporchi e il cuore deluso. Amen.